Questo è Caverna di Platone. Questo è... si è lui! Questo è Caverna Rewind! Come sempre... Forse pelata, forse pelata! Allora, forse pelata, sì. Se... se... arriviamo a mille su, mi fa la pelata, chiaramente. Eccoci qua. Ecco qua, cominciamo subito. Alla grande qua cominciamo. Allora ragazzi, vediamo un po' come stanno le cose. Kamehameha vs Garlic Gun e Goku che arriva su Namek. Allora, tra questi due, quali saranno i miei criteri per decidere? Allora, vorrei in qualche modo fare una sintesi tra ciò che sono i momenti emozionanti, quello che raccontano, quello che mi hanno dato, e anche la qualità del disegno. Vorrei cercare di fare una crasi di tutto questo. E allora, vediamo un po'. Goku a destra. Quando arriva su Namek, molto figo, dopo l'allenamento, fatto a Gravitacento, potentissimo, col sacchetto di Senzu legato alla cintura, molto particolare. E poi c'è Goku che spara una Kamehameha con il Kaioken triplo contro il Garlic Gun. Le forze poi saranno pari e Goku dovrà utilizzare il Kaioken quadruplo. Fisico, non mi tradire, ho bisogno di un triplo Kaioken! Allora, questa è sicuramente una delle scene più incredibili. Quella di Goku su Namek è molto placida, ha un disegno che secondo me è bellissimo, è molto dettagliato. L'interno dell'astronave è davvero ben realizzato. Goku è sereno, ma serio. Fichissimo. Disegnato proprio bene. A sinistra, invece, abbiamo ancora il Toriyama più tondo. Si vede dai muscoli di Goku, sono proprio beef, sono proprio belli tondeggianti, però l'inquadratura, il gioco di luce, la potenza della tavola, anche la verticalità della tavola, è qualcosa che me lo fa votare. E andiamo avanti. Apparizione di Majin Buu, dopo aver mangiato il Majin Buu grasso, e poi, invece, Goku, che saluta Majin Buu, sparandogli la Genki Dama, dopo aver recuperato le forze. Beh, allora, sicuramente a sinistra un momento drammatico, interessante, perché abbiamo visto questo scontro tra la parte buona, così possiamo dire, di Majin Buu e la parte negativa, vince la parte negativa e diventa questa creatura. Molto particolare, molto figa anche da vedere, in realtà, però un po' banale, nel senso che il Majin Buu grasso e cattivo, secondo me, funzionava molto meglio. Poi dopo diventa sempre più stilizzato il concetto del demone che combatte contro i protagonisti. Avrei preferito la versione buffa iniziale. E poi, qua abbiamo la classica scena Thank you, Doragon Boru! Questa è pazzesca. Una scena bellissima, quindi voto quella. Non può essere Bulma oppure Cell è in TV. Allora, vediamo un po'. Entrambi i momenti della saga di Cell, momento drammatico, quello di Cell, che secondo me si scende sempre più in un momento serio, drammatico, quello della saga di Cell. Più si va avanti, più diventa bello intenso. Invece, qui siamo ancora all'inizio, ci sono ancora dei momenti molto comici. Qui, per esempio, Goku sta scoprendo che Trunks è figlio di Bulma. Non sa ancora del figlio di Vegeta. Allora, le espressioni di Goku qua sono tutte molto divertenti. Mi viene da votarle, perché sono veramente... Cioè, è bello quando Toriyama disegna Goku in una maniera puffa. Anche da adulto, lo adoro. Oddio, Final Flash, Goku e Ub. Vi dirò, ragazzi, qua c'è già il vincitore. Non ho molto da riflettere. Final Flash, bellissima comunque come vignetta. Peccato, insomma, per la resa di questa immagine, che non è fantastica. Però, Goku e Ub, secondo me, è un momento molto importante. Questa è una pagina che potete trovare soltanto nella Kanzenban Perfect Edition o nuova Ultimate Edition, quando ci arriverete. Oppure nella Full Color di Dragon Ball, la Full Color Rai finale della Kanzenban. Bellissima, secondo me. Non aggiunge troppo, nel senso che è evidente che dopo Goku sarà Ub a diventare il messia della Terra, il protettore della Terra. Però, questa paginona, secondo me, è veramente molto, molto significativa. Perché si vede Ub che prende proprio il testimone di Goku. Cioè, se non fosse chiaro quello che dovrebbe succedere, qui diventa molto evidente. Rende esplicito l'implicito. E cioè che Ub è davvero il prossimo erede di Goku. Lì che vola sulla nuvola Kinto e Goku che rivede se stesso da bambino. È un momento molto dolce, molto importante. Io lo mando avanti. La morte di Krillin contro... Ah, è anche figlio di Vegeta. Prima abbiamo votato questa cosa qua. Allora... Difficile, sapete? Perché la scoperta di Goku... Oddio, sei figlio di Vegeta? Cosa? Insomma, ci rimane. E qui invece c'è la morte di Krillin. La seconda morte di Krillin, in realtà. Perché la prima è quella avvenuta per mano di Tamburello. Secondo me, le morti di Krillin sono significative per Goku. Ma non hanno mai avuto un grande peso a livello di disegno, di racconto. Cioè, quando è bambino, viene trovato già morto. E qui invece esplode e si vede soltanto l'esplosione, che è molto significativa. Chiaramente, cioè, Dragon Ball, per quanto abbia degli elementi orrorifici e anche gore, certe volte, qui ha indugiato. Ha indugiato, ci fa vedere semplicemente l'esplosione, non ci fa vedere il corpo di Krillin morto per terra. Vi dirò, non sono delle scene che a me piacciono tantissimo. Preferisco continuare ancora con le facce buffe di Goku. Ecco qua, allora. Vegeta e Nappa arrivano sulla terra e poi Hello Everyone. Vediamo, vediamo. Allora, questa pagina è carina perché, oltre... Allora, a farci vedere Nappa e Vegeta insieme, in questa posa super iconica, ci sono anche Tenshin and Hatchouts. E sono un po' la versione terrestre di loro Saiyan. E poi c'è Goku che, invece, qua ritorna dall'altro mondo per il torneo Tenkaichi. Questa è molto bella. Però, devo dire che io un po' preferisco lo stile morbido di Toriyama. Poi la presentazione dei personaggi. Loro che funzionano bene, sempre a coppia. Toriyama fa sempre le coppie per raccontare i nemici, perché uno parla per bocca dell'altro e si dicono delle cose e fanno riflettere su ciò che sono. Quindi, mando avanti questa, dai. Goku che si ricorda di aver promesso a Cici di sposarla e poi la sposa e dice, ok. E invece la presentazione di Muten. Ah, voto la presentazione di Muten. La preferisco. Uguale qua. Di nuovo torna. Torna questa vignettona. Cici e Goku. Però, la presentazione di Goku al torneo, che poi è lo stesso torneo Tenkaichi, di lui sotto l'ombrello, con la pioggia, e fa, ah, vecchietto, sono felice di vederti. Anche voi sembrate stare tutti bene. E loro rimangono stunnati. Dico, ma chi è questa persona? Scusate, non capisco. E invece Goku. Allora, secondo me Goku con diversi outfit funziona veramente bene. Proprio bello da vedere. Questo è sicuramente uno dei miei outfit preferiti. Mi piace veramente tanto. Lo adoro. Lo adoro in questo outfit. Con il turbante che gli nasconde i capelli. L'ombrello. Lui vestito tutto di blu. Bello. Mi piace questo. Primo Kaioken. Contro calcio di Gohan. Contro Dodoria. Allora, per quanto sia importante, questo momento nella crescita di Gohan come eroe, perché qui Gohan si erge a favore dei Namecciani che vengono trucidati da Freezer e i suoi, non posso far finta di niente, ragazzi. Questo è il primo Kaioken. Bello, il colore rosso. Haka. Haka, il rosso. Il rosso è un colore che solo pochi eroi possono usare, perché il colore della vita, il colore del sangue, è un colore intenso. Non tutti possono reggere l'importanza del colore. La posa è incredibile, ma le sfumature, il sapiente uso delle pennellate, del colore, guardate come Toriyama crea tutto intorno al corpo di Goku questi giochi di luce che in realtà è semplicemente il bianco della pagina, no? Non lo colora, però così per sottrazione poi in realtà diventa un momento per fare cornice intorno al corpo di Goku che ha questo riflesso cremisi su tutto il corpo. Bellissimo. Il volto di Vegeta che si accorge che qualcosa è cambiato in Goku. Vegeta in questo momento non sa ancora percepire le auree, ma si accorge che qualcosa è cambiato. Ah, anche qui c'è già il vincitore. Allora, 17 che uccide 20, o meglio, uccide il Dottor Gero definitivamente dopo avergli piantato la mano nel torace, poi gli dà un calcio e gli stacca la testa, e poi il volto triste di Goku. Per tanti anni questo volto triste di Goku è stato adattato male, è rimasto adattato male, perché Toei Animation aveva probabilmente confuso il modo in cui dovevano disegnare l'espressione di Goku. Il volto di Goku è importantissimo, perché questa è la scena immediatamente dopo a «Sai un folle, Freezer!» e gli spara l'onda, la Kamehameha con una mano sola. E lì Goku si pente un po' della sua azione, perché Goku aveva già trovato la risoluzione dello scontro. Goku è un personaggio estremamente buddista, cerca di non uccidere mai nessuno. Infatti è dispiaciuto. La sua è un'espressione molto contrariata, perché non avrebbe voluto uccidere Freezer in quel momento. Noi sappiamo che poi Freezer sopravviverà allo scontro, quindi ok. Però, 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 è un momento, questo qua, molto teso. E per fortuna poi è stato animato di nuovo, nei videogiochi, oppure nello special di Trunks, durante la saga di Zamasu per Dragon Ball Super, e l'espressione di Goku è stata corretta nel tempo. Però per tanti anni è stata conflittuale come espressione. E il manga manteneva naturalmente questa idea di dispiacere. Perché l'obiettivo di Goku non era sconfiggere Freezer e basta. Chiaramente lo voleva umiliare, perché c'era la sua parte guerriera, che era esplosa in quel momento, grazie alla trasformazione Saiyan. Ma aveva perso completamente interesse nello scontro, perché più andava avanti, e più Freezer perdeva energie. E Goku, invece, lo stava sovrastando. Quindi è arrivato a un certo punto, Goku era stanco, non voleva proseguire, perché aveva trovato la sua soddisfazione. Lui non combatte per sconfiggere gli altri, ma per sconfiggere se stesso. E Goku si è sconfitto. E si è anche dovuto sconfiggere nella ideologia per colpire Freezer. Tremenda sta cosa. È carica, pregna di significati. Allora, pagina una con la presentazione di Dio, molto, molto intensa, e saluto finale di Goku dopo la sconfitta di Cell, con tutti gli altri che stanno lì ad ascoltare il desiderio di Goku, insomma. E vabbè, li saluta a Dio. Tra le due preferisco quella di piccolo. Cioè, il figlio di Katatsu, Kami, Dio. La trasformazione di Gotenks in Super Saiyan 3 e Goku, che si trasforma in Ozaru. Allora, vi faccio vedere quanto è conflittuale per me questa scena, perché da una parte abbiamo naturalmente la presenza, l'apparizione, per la prima volta dell'Ozaru. Eeeh, tanta roba. Tanta, tantissima roba. Ma rendetevi conto che quando io ero piccolino, Dragon Ball lo coloravo, e una delle scene colorate è proprio quella che è apparsa qui, nel torneo di Wufufu. Ah, però io sono incredibilmente nostalgico, soprattutto nei confronti della prima parte di Dragon Ball, perché secondo me non viene celebrata molto bene. Perciò, Goku o Zaru. Apparizione di Goku con il vestito di Yardrat. Sto mandando troppo avanti questa parte della saga di Cell. Succederà spessissimo, perché è la mia saga preferita. Anche quella di Majin Buu mi piace tanto, infatti questa è un'altra delle vignette più divertenti. Majin Buu che sta lì a bere una soda, mentre Gotenks sta evocando tutti i fantasmi. Ma da dove l'ha tirata fuori questa cosa qua? Perché l'ha fatto? Perché non c'ha senso sta cosa? Però, ragazzi, io adoro Goku Yardrat. Guardate, cioè... L'altra volta ho preso un master list di Goku Yardrat. Guardate che figo. Guarda che bello. Cioè, è impossibile, è proprio la mia cosa preferita. O mandiamo avanti ancora un po', poi vedremo che succederà. Allora... Piccolo che fa il light grenade intorno a 17, circondato da questi colpi. E dall'altra parte, Gohan, Vegeta, Trunks, che ascoltano la voce di Goku dall'oltretomba. Vi dirò, nonostante... Questa, secondo me, insomma, respira meglio come pagina, perché sono loro che si parlano, molto semplice. Qua, invece, è una scena di attesa. Questa è l'attesa prima della tempesta. Siamo... Anzi, 17 è letteralmente nell'occhio del ciclone. Mi piace più di questa la mandavanti. Allora, vediamo un po'. Presentazione di Veggetto, pronto a combattere. Yosha! È fortissimo quando fa così. Yosha! E Freezer contro Nile. Eh, dice Nile, vediamo, vediamo. 42.000 di livello combattivo. Niente male. Io sono solo 530.000. Questa è super inquietante, dai. Questa va avanti. Il ritorno di Gohan e Goku Time. Allora, ritorno di Gohan molto particolare. Forse avrei votato di più un'altra pagina, non questa. Magari quando sta volando, che sta arrivando sul campo di battaglia. Ma Goku Time è fortissimo. Cioè, è proprio bello. Lui solo con la forza dell'anima che respinge Bart e Regis. Cioè, è fantastico. No! Vabbè, qui mi... Allora, non potrà mai vincere questa pagina, perché qui c'è Goku che sconfigge il re demone piccolo, ragazzi. E lo penetra con tutto il corpo, dai. Questa è una delle scene più iconiche di Dragon Ball in assoluto. Non c'è manco da discutere. Allora, allora. A sinistra. Voterei un altro momento. Non questo. Questo è... Questo è un momento importante. Forse... Cioè, non lo voterei il paneling a questo punto per il... Non lo so, non lo so. Cioè, è per quello che racconta. Qui c'è Vegeta che dice Io sono un guerriero dell'elite. Io sono uno di quelli che... Con cui tu stai avendo anche soltanto un... Ti sto facendo un piacere a parlarti. Renditi conto. Io ti sto graziando nel parlarti. Perché io sono l'elite. Io sono il principe. Tu sei spazzatura. E Goku dice Anche la spazzatura, se si impegna, può diventare migliore. E qui Goku racconta praticamente se stesso, no? Vegeta è quello che crede nelle gerarchie, nelle leggende. Goku è quello che crede nell'automiglioramento. Lui è buddista. Lui è uno che si allena. Sono due filosofie al confronto. E a destra, invece, c'è Trunks che gli mandano una foto e dicono Trunks, puoi dare un'occhiata a questa cosa qua. E lui la guarda e dice Ma che è sta cosa? Ma che... Allora, vi giuro La scena di lui che guarda la foto della macchina del tempo Distrutta Con il muschio sopra la vegetazione che sta crescendo A me diede i brividi Oggi come allora Io la guardo e tremo A pensare a cosa è potuto succedere Quante cose sono andate storte Per far succedere questa cosa qua E Trunks che pensa Quanta roba abbiamo imputtanato Con un viaggio nel tempo Cosa è successo? E crea tante domande È una pagina che crea domande Quella di sinistra, secondo me, è molto potente Ma voterò la macchina del tempo Le mutandine! Un paio di mutandine! E Goku e Gohan Che escono fuori dalla stanza dello spirito del tempo Allora, bellissimo Goku e Gohan In questa forma Che è quella di un Super Saiyan rilassato Ma questo è il primo desiderio, ragazzi Questo è il primo desiderio espresso nel manga Che chiaramente nella tradizione di Toriyama È un desiderio stupido È un desiderio che fa ridere Olong salva il mondo Chiedendo un paio di mutandine Incredibile Un desiderio così lascivo Crea l'occasione per la salvezza Il ribaltamento dell'aspettativa È sempre divertente Questo è Dragon Ball Oh Allora Se dovessi votare la qualità La qualità del disegno Probabilmente Mi verrebbe da votare La pagina a sinistra Però Le morti dei protagonisti Secondo me Toriyama non le sa fare tanto bene Non sono molto interessanti La prima morte di Goku Ma anche la seconda in realtà La prima morte di Goku Sembra veramente stupida Perché Se prima hai stretto la coda Raditz Per fargli perdere le forze In modo che Piccolo lo uccidesse Ora invece Non riesci a farlo E devi per forza Fare questa Four lock E stare così A prenderti in pieno il colpo Non c'ha senso Per me non c'ha senso Non ha mai avuto senso E non avrà mai senso È solo un modo Che Toriyama ha trovato Secondo me anche Anche brutto da raccontare Per la morte Di Goku No Non mi piace Non mi piace Quindi A prescindere avrei votato Qualsiasi altra cosa Vediamo un po' Goku contro Cia Papa E Vegeta Che si rende conto Che Goku Potrebbe essere diventato Il Super Saiyan Vabbè L'importanza qui Di Goku È incredibile Richa Papa Prova di nuovo A partecipare Al torneo Ma non ci riesce Che viene di nuovo Sconfitto da Goku In una maniera Magistrale E qui Secondo me È importante Questa Questa sequenza Perché con un solo colpo È chiamata Tap Questa immagine Tap Goku fa così Tap Un solo colpo E fa capire tutto Un solo colpo Leggero E fortissimo Qui Vegeta Invece sta prendendo coscienza Della merda In cui si troverà Probabilmente Un voto tap Allora Di nuovo Goku e Vegeta Sulla collinetta E poi Super Bu Che urla come il pazzo E allora vi dirò Anche qui Torna un po' Torna la storia Torna la mia storia Perché io quella Di nuovo Quella vignetta L'avevo colorata E sono anche Abbastanza orgoglioso Di averla colorata In questo modo qua Anche facendo un bel gradiente Sull'onomatopea Eh Usando tutti i colori giusti Eh Voto Voto lui Guardate Allora Sferde del drago Che si disperdono E presentazione di Majin Bu Ma non ci perdo nemmeno un secondo Dai Majin Bu troppo forte Doppio calcio Di Jackie Chun Contro Goku E Soki Dan Di Yamcha Bellissima scena Questa Di Yamcha Che fa vedere Una tecnica Che è molto particolare Una tecnica nuova Qualcosa che non si era mai visto Prima E che diventa Diciamo un po' Caratteristica del personaggio Dall'altra parte c'è Jackie Chun Contro Goku Secondo me questo è un bel momento Un momento dove Capiamo Che la strategia Spesso vale molto più Delle mazzate vere e proprie Voto questa Allora Vegeta che prende un calcio Da 18 E Muten Che spara La più potente Kamehameha E tutti che rimangono Sbalorditi E poi lui Torna piccolino Rinseccolito Dai Dai si vota Muten Su Presentazione di Goku Dopo aver bevuto L'acqua del dio maestoso Contro piccolo E poi Addio Commiato Di piccolo Majinia Figlio di quest'altro piccolo Classico paneling Di Toriyama Preferisco La presentazione Di Goku Non sono un grande fan Di queste vignette Con i personaggi Messi in questo modo qua Perciò a prescindere Non l'avrei votato Come ho detto prima Questa Questa morte Per me insensata Anche se Raditz Poteva staccarsi la coda Insomma Cioè Per me è palese Che dice quella cosa Semplicemente Perché Perché Ora Devo Devo trovare un modo Per far morire Goku No Perciò Vado avanti con la rana Sequestro di rana Vediamo Ah la morte di Krillin Non è giusto Non è giusto Lui non ha fatto niente E Goku si incazza E invece Qui il volo Della navicella Namecciana Che Bulma Ha modificato Per poter viaggiare Sul pianeta Namec Ripeto Morti di Krillin Morti dei protagonisti Secondo me Non sono proprio Interessanti In Dragon Ball Secondo me Sono fatte proprio male Vai di Bulma Arrivo di Raditz E partenza di Vegeta Allora Secondo me Questo è Molto più Forte Come momento Magari come Come disegno Probabilmente Più interessante Quello a destra Però Insomma Secondo me È importantissimo Questo momento Dove Raditz Spiega Tu sei uno I guerrieri Saiyan Siamo Questa razza Di alieni Conquistatori Dello spazio Voto lei Allora Goku Che arriva alla fine Della strada del serpente O Great Saiyan Che fa le sue pose Stupide Piccolo Che diventa gigante Oppure Altra posa iconica Di Goku Con il Kaioken Colpisce In realtà Questo è il primo Kaioken Che si vede Però È velocissimo Viene fatto intuire Gli spezza la schiena E poi lo regge Con una mano Fortissimo Assurdo proprio Una scena di violenza Incredibile E qua Invece Piccolo Che diventa gigante Non ancora Grandissimo Perché poi c'era un'altra Voto questa Dello spezza schiena Bellissimo Tenshinhan Che corre Con un cazzotto Fortissimo Guardate Guardate il modo Per far capire Quale parte del corpo Si è mossa Tutto il resto Del corpo di Tenshinhan È disegnato Con una linea pulita Mentre invece La spalla Il braccio L'avambraccio Il pugno Sono fatte con delle lineette Perché sono quelle Che si sono mosse Però velocissime E te non te ne sei nemmeno accorto E tau bye bye Nonostante sia un cyborg Finito a terra Fortissimo Bellissimo Dinamismo C'è tutto Qui invece L'atterraggio Bella scena Questa scena Di presentazione di Namek Molto bella Vedere il cielo E l'acqua verde Gli alberi blu Particolarissimo Però mi sento di votare Tenshinhan Che è uno dei miei personaggi preferiti Ecco qua Un altro momento Strappalacrime Questo di Goku Che dice Addia mamma Che mi dispiace Me ne vado Bla 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 Ciao ciao E poi incornata Di Krillin Purtroppo Queste scene per me Perderanno sempre Perché non mi piacciono Oddio Oddio Perché devo scegliere Tra queste due cose No No ragazzi Sono in crisi Sono in una profonda Crisi spirituale A sinistra La summa del divertimento Dell'arte del fumetto A destra La presentazione Dei miei personaggi preferiti Di Dragon Ball Guardate cosa fa Goku Sta combattendo contro Yamcha Gli dà Un colpo E il suo colpo Lo fa rimbalzare Su questo lato Della vignetta Che si rompe La vignetta Si rompe Ragazzi Guardate qua Si rompe Yamcha rimbalza a terra Sfruttando la follia La demenzialità Del fumetto Meta narrativo Totale E a destra La presentazione Della squadra Giniu Giz Con la valigetta Con dentro Gli scouter Loro Fichissimi Tutti con l'uniforme Con lo stesso simbol Tutti di un colore Diverso Belli proprio Perché chiaramente Sono ispirati Ai Power Rangers Che io adoro O meglio Ai Super Sentai E wow Perché deve essere Così difficile Vivere Goku che comincia A fare pratica Penetrando le cose E qui contro Il Il segretario Black E Super Vegetto Super Vegetto Vabbè Particolare Bella Bella pagina Che poi dura Un capitolo Voto Voto Goku No dai Bellissimo Non ci penso nemmeno Corsa di Goku Dritto Allora Rottura della spada Z Oppure Oh my god Cacarotto Number one Gambare Cacarotto Non ho mai visto Un Saiyan Combattere Ferocemente Col cuore gentile Per qualcuno Number one È il picco del personaggio Per me È il picco Della morte Del personaggio Il barato Qua è morto Vegeta Quando dice Gambare Cacarotto È morto Vegeta Finita Finita Tanto che Anche Toriyama Se ne accorge Poi se lo rimangia Però vabbè Voto questa Oh sì Sì Bellissimo disegno Quello di Cell Super inquietante Ma sì Questo è Quello Che voglio votare Le pose Iconiche Di Vegeta E Goku Fanno Comprendere molto Del loro stile Di combattimento Il vento Che Li divide Anche come elemento Grafico L'altura Su cui sono Vegeta È più in alto Di Goku Il vento Li divide Come elemento Grafico Molto particolare Cioè è una pagina Che racconta Tanto Questa deve andare avanti Prima evocazione Di Shenron Contro Che Kyojin Che Kyojin Allora È vero Prima presentazione Di Shenron È incredibile Però ragazzi Ragazzi quanto è bello Quando si incazza Come una bestia Vai Vai È raro Vederlo incazzato Come una bestia Oh no No Ma perché ci stanno Sempre queste pagine Che mi mettono in conflitto Allora Vabbè Facile Dai Non è la prima Mafuba Questa È la contro Mafuba È però Qua c'è Goku Che scava La torre di Karin Bellissimo Bellissimo Dai Secondo me anche il pattern Molto intricato E particolare Ah Allora Presentazione di Gotenks E Gohan Contro Majin Bu Vediamo Vediamo Majin Bu Che ancora Sembra non rendersi bene Conto della potenza Di Gohan Gohan Smargiassone Gohan Smargiassone Non è che mi fa impazzire Devo dire la verità Voto Gotenks Vabbè Allora Bellissima Questa pagina Bellissimo Io adoro Le paginone di Toriyama È troppo bravo Qui Presentazione di Raditz Figura intera Lo scouter Si vede la silhouette Del contadino Il contadino che spara Raditz che para Il proiettile Con una mano Immediato Devo dire che Piccolo Con i simboli grafici Della gioia Alle sue spalle Non mi fa impazzire Nonostante sia Bella Vai di Raditz Vai No No Allora No vabbè Questa non la voto Perché Sarebbe stato Assurdo No Avrebbero dovuto far vedere L'altra Addio Dancing Comunque Bora che resuscita Bel momento Goku che spara La Kamehameha Con Kaioken Per 20 Pazzesco E invece L'anziano Saggio Di Namek Che tira fuori Tutta l'energia Da Krilin Dai Potenziale nascosto Super bello Dai Allora Gohan Tocca a te Gohan E invece Oh bello Questo momento Di Krilin Che prende la katana Di Yajirobei E sta per uccidere Vegeta Che sta strisciando Come un verme Verminoso Dentro la navicella Voto questo Entrambe le pagine Riguardano un bacio Majin Bu Che cambia volto E diventa Come si chiama Harn Come si chiama Bo Roy Robert Robert Harn Non mi ricordo Una cosa del genere E diventa questo attore Famosissimo Bellissimo Ma chiaramente Lei non vuole baciarlo E lui la trasforma In una caramella E sa la magna Mentre a sinistra C'è il primo bacio Tra 18 e Krilin Oh Presentazione di Trunks Super Saiyan E Cell Che mangia 17 Trunks No Bellissimo Allora qua Piccolo si rende conto Di avere un potere Strabiliante Dopo la fusione Con Nile Però La testata Che Goku Dà al costato Di Piccolo E lo sbatte fuori dal ring Lo sconfigge E vince il torneo Contemporaneamente E da manuale Guardate qui Che composizione Incredibile Mister Satan Che dice Io sono il numero 1 E poi invece Goku e Cici Sulla nuvola Kinto Che partono Per sposarsi Che momento Stupendo Che momento meraviglioso Troppo bello Troppo bello Voto questo Viva l'amore Goku che Sta per morire Su Namek Che sta per esplodere Oppure Vegeta Che usa Per la prima volta Il suo potere Guardate qui Goku Goku è Molto preoccupato Vegeta usa Il suo potere Una volta Per sparare Un colpo Contro Contro Nappa E ucciderlo Pazzesco Vegeta Vittorioso Che ha le sfere Del drago Adesso Oppure Gomitata Fortissima Di Goku Arricum Io non sono Un grande fan Della saga Di Namek Dico la verità E questo è uno Dei motivi Per cui la odio Perché è un Costante E continuo Prendi le sfere E nasconda le sfere Ruba le sfere E metti le sfere Trova le sfere E nascondi le sfere Insopportabile Meglio Meglio la Gomitata Ah Gohan Che sbrocca Contro Vegeta Che taglia La testa Guldo Vabbè ragazzi Qua Anche qui È scontato Il risultato Volleyball Di Gotenks Oppure I colpi Che Goku Dà A velocissime A Krillin No In questo caso Vorrei vedere Qualcosa di più divertente Quindi Volleyball Ci sta No Dai Vabbè Questo è Incredibile Il primo Big Bang Attack Di Vegeta Oppure Quando sconfiggono Majin Buu Finalmente Con la Genki Dama Goku si gira Verso Vegeta Gli fa l'ok E Vegeta Morto a terra Ci ha messo un sacco di tempo Bastardo Che oggi è diversa Nella Kanzenban è diversa Vegeta risponde Fa ok Vediamo un po' Goku che ha appena ucciso Tao Bai Bai Anche se poi Poi sappiamo Che non muore Bla 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 Promette a Upa Di salvare suo padre E poi Goku Che beve L'acqua del dio maestoso Sono anche speculare In realtà Se ci fate caso Come momenti Guardate Vignettona larga Vignettona larga Sopra e sotto Poi vignetta lunga E due vignette Vignetta lunga Due vignette Bella Sono molto simili Ah sì Vai con Karin Dai Oh Bellissima questa No vabbè Presentazione dei guerrieri Z Top Incredibile Mi piace un botto E bellissima anche questa Anche se non Non sono mai riuscito A togliermi dalla mente L'idea che Krilin Sembrasse una tartaruga ninja In questa parte del manga Forse solo a me Faceva questo effetto Non lo so Però sembra un po' Una tartaruga ninja O mi sbaglio Ditemi se è così Anche per voi Cioè Questo è bello Come momento Loro che potenziano La loro aura E Cioè Cazzo Fighissimi Però Presentazione dei guerrieri Top Tu sei pazzo Vabbè No vabbè Mi dispiace Retentional Ma Morte in diretta Di Yamcha E Trunks Che diventa Super Saiyan Ma non c'è partita Il meme vince sempre Goku felice Di aver vinto Per la prima volta Il torneo Tenkaichi O Goku Che arriva Da Karin Ma sì Torniamo Tenkaichi Dai Ah Presentazione di Freezer Che è Julia Crossbow Ciao Oggi sono venuto Su una Mac Per provare qualcosa Di buono Perché mi hanno detto Che qua dietro C'è sta Una bella Rosticceria Fatta Da Pasquale Ernameciano Che fa Delle piante di agissa Fritte e rifritte In padella Che so proprio La fine del mondo Me l'avete consigliato In chat Adesso lo vado a provare No Allora Questo è un momento incredibile Goku che da solo Impara Come gestire il ki Dentro di sé Non sapeva Cosa stava facendo Era pura imitazione Infatti Quando poi imparerà A gestire il ki Sul serio Con gli allenamenti Di Dio Farà Un'onda kamehameha Gigantesca La super kamehameha Pazzesca No E qui è semplice imitazione Però Essendo un genio Del combattimento Riesce a replicare E spara Un'onda Piccola Non grande Quanto quella di Muten Però Abostanza piccola Da fare danni E distrugge la macchina Povera 500 Fatta a pezzi Non si spinge più Goku Qui Questo Goku È disegnato Proprio bene Ed è un Goku Che prende coscienza Del fatto Di aver ucciso Suo nonno Quando si è trasformato In Ozzaru E ora lui sa Perché Vedendo Vegeta Che diventa Un Ozzaru Dice Allora ero io Da bambino Che sono diventato Uno scimmione E ucciso Mio nonno Nell'adattamento italiano Dell'anime Di Dragon Ball Z Errore grossolano Diceva Papà Mi dispiace Se ti ho ucciso Matti Confuso nonno Con papà Vabbè Invece a sinistra La prova che Goku È un cuore puro Nemmeno il raggio Akumite Di Akuman O Devilman Può ucciderlo Fantastico È pazzesco Dai Si foda questa Bellissima Bellissima la scena a sinistra Peccato per Yamcha Che insomma Busca sempre mazzate Però È troppo importante Questo momento È bello Gor È violento È la mano Nello stomaco Che esce fuori Dall'altra parte Tremendo La voto Senza se Senza mano Trunks e Vegeta Che entrano per la prima volta Nella stanza dello spirito Del tempo E poi i Freezer Che diceva Morirai Con le mie mani Trunks preoccupato E dice Devo passare un anno intero Con mio padre qua dentro Porca puttana Porca puttana Secondo me Non si ha sempre bene L'occasione Di osservare La stanza dello spirito Del tempo E guardate quanto è particolare Cioè anche Quella Quella ghiera Che c'è sopra Ha le lancette Di un orologio Non si fa tanto caso A quello che c'è sopra La stanza dello spirito Del tempo E questa Serie di vignette Ce lo fa vedere Però È interessante Quella a sinistra È Vabbè È super iconica Però quella a destra È veramente piena Piena di dettagli Io poi preferisco Queste cose Mi piace Vedere robe Che sono puramente Grafiche Ma magari non significano Niente Perché Ma sì Toriyama L'avrà disegnato Dicendo Ma sì È la stanza dello spirito Del tempo Metto tutti gli orologi possibili Lancette E cose incredibili E quindi Vi dirò Mi viene da votare questa Goku che usa il triplo Kaioken O Toriyama Che dopo aver rosicato Dello special televisivo Di Dragon Ball Z Prende Bardock E lo fa diventare Canonico Mettendolo nel manga Guarda qua Quale Le parti si sono invertite È Vegeta Quella ad essere preoccupato E qui Freezer però ricorda Un momento Kakarot Ma non è un nome Saiyan E allora si gira E dice Ah ma sì Ma lui somiglia A quello che ho ucciso Trent'anni fa Ah 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 Vabbè Sono proprio cazzate Siamo a livello beautiful Però Sta cazzata mi fa ridere La voto Distruzione del pianeta Namek Boom Non rimane più niente È Super Vegeta Allora per quanto sia tamarro Per quanto sia brutto Per quanto non serve a niente Ragazzi Super Vegeta È Super Vegeta No Ah 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 No Uufufu Cosa hai fatto Super Gotenks Contro Fat Gotenks Vabbè ragazzi Ma io voto Fat Gotenks Per forza Di nuovo Super Vegeta Oppure Momento Relax Di Goku Preferisco Momento Relax Allora Super Vegeta Bello però Momento Relax Bellissima Inquadratura Dall'alto Di tutta la regione Poi ci si avvicina Goku Con Gohan Che fa Gohan Un po' preoccupato Perché dice Ma non dovremmo allenarci Abbiamo combattuto contro Cell Picnic La macchina Una gita di famiglia Gita di famiglia Un momento particolare Di Dragon Ball Che di solito non si vedono mai Goku che viene colpito Da un'onda Do Don Però si salva Grazie alla sfera del drago E invece Presentazione Di Gohan Con lui che arriva Sulla Kame House Col figlio in braccio Madonna Questo momento È troppo bello Passato tempo Goku è cresciuto È diventato Un padre C'è suo figlio Vabbè Dai È troppo bello Cioè Gohan Quando arriva Con questi colori Col cappello Che sopra C'ha la sfera Del nonno E si chiama Gohan Come il nonno Che lo aveva adottato Cioè È tutta una serie Di riferimenti Di momenti incredibili Troppo bello Dai Gohan Che viene Abbracciato forte Da Cell Oppure presentazione Di Babidi E Darbula E Gohan Diciamo Non riesce Ad esprimere il suo potere Piccolo In qualche modo Fa accorgere Goku Dell'errore Dice Guarda che hai fatto una cazzata Questa non ce la fa E poi presentazione Di Darbula e Babidi Non lo so Allora loro mi piacciono Tanto come design Proprio dei mostri Cattivi Lui è un demone Fortissimo Poi c'ha questa Questo bel mantello Che gira intorno Guardate Sembra un Kongorikishi Guardate che Che bel Design buddista Però alieno Anche se non sembra È molto giapponese Questo personaggio Anche Stessa cosa Anche Babidi Vedete il mantello Come c'è là intorno Che poi fa Il giro Sembrano proprio Quelle fasce Che hanno i Kongorikishi Intorno alla schiena Così quando esprimono La loro potenza Queste creature che difendono Il Buddha Sono belle Un tigno Grazie dell'abbonamento Ma sì dai Voto l'oro Bel disegno Anche se le presentazioni Sono quasi tutte uguali Vabbè Goku che dice Vabbè ti sei cagato sotto Non hai distrutto Il pianeta E poi Vabbè questo dai Allo Irzio Grazie dell'abbonamento Prima trasformazione Di Vegeta In Super Saiyan Oppure Goku Dopo l'allenamento Tutto distrutto Fatto a pezzi Che prende Il fagiolo Lo mangia E torna fortissimo Vabbè però Questo è cittare Qua stava palesemente Cittando Aveva in qualche modo Capito Che portarsi Al limite Allo stremo Delle forze E poi Riprendersi Lo rendeva più forte Qua letteralmente Questo è il farming Di Goku Non è proprio fantastico Come allenamento Diciamoci la verità Per questo voto Vegeta Bellissimo Allora Momento di Goku Che si arrende Contro Cell Dice non ce la faccio So che non ce la faccio E poi Gohan Qua invece che piange Dice Smetti di fare male Al mio papino Livello di combattimento 1307 Raditz cagato sotto Troppo bello Troppo bello Si vota questo Allora Villaggio Pinguino Presentazione del villaggio Pinguino O prima volta Che Goku Diventa Super Saiyan Vabbè Secondo me Questo è troppo iconico Allora Nonostante io preferisca L'anime Rispetto al manga Perché nel manga È proprio una soluzione pigra Cioè ragazzi Sinceramente Anche solo a fare il paragone La pagina a sinistra È molto più dettagliata E anche a colori Insomma C'ha un effort Superiore Rispetto a questo Noi sappiamo Che Goku È Super Saiyan Con i capelli Biondi Solo perché Toriyama e il suo assistente Si rompevano le palle Di riempire i capelli Di Goku Di nero Di inchiostro E quindi Hanno detto Facciamolo Bianco È una soluzione Incredibilmente pigra Però È un momento Importantissimo In Dragon Ball Ah 18 Che se ne va E dice Ci vediamo Oppure Cattivissima Sta scena Infami Bastardi I cattivoni Che sparano Al cagnolino Sparano a Beh E Majin Bu Che rimane così E poi si incazza E da qui Comincia A devastarsi Proprio Sapete che io La tiro per C18 Allora Spiegazione di Vegeta Totalmente folle Di lui che dice Per diventare Super Saiyan Serviva un cuore Puro Il mio cuore Era puramente Malvagio Ma vabbè Completamente Matto Senza Senso E poi invece Vediamo L'aldilà Rem Dio che lo Accompagna Eh Cioè questo è bello Vediamo Finalmente come viene Gestito l'aldilà Con tutti i Yoni Questo Aldilà tipicamente Giapponese Bello Con lui che praticamente Però C'è un direttore Sta lì con l'ufficio Il telefono Scartone Toffi E le cose Cioè È una cosa strana No? Perché dovrebbe essere Una divinità Che regola il flusso Dei morti Ed è In realtà Praticamente Un posto fatto Di salaryman È divertentissimo Come concetto È proprio Dragon Ball Eh Vabbè Dai però Allora Mi piace tanto Questa Questa scena Di Goku Che va a prendere Gli occhiali Da muten Per non subire L'effetto Del taio ken Veramente Mi piace Un botto Però ragazzi Ma avete capito Che a destra Abbiamo Vegeta Che sta mangiando Un alieno Che ha appena ucciso Incredibile È seduto Sul corpo dell'alieno Che ha appena ucciso Se lo sta mangiando Dietro c'è Nappa Hanno sentito Tutta la comunicazione Con Raditz Sanno delle sfere Del drago È incredibile Pazzesco Non mi piace Questo confronto Standoff All'americana E questo è La fine di Dragon Ball Però Kanzenban L'originale Non finiva così Questa è la Kanzenban Dove Vegeta Si rimangia tutto E quindi Kakarot Non è più Gambare Kakarot No no Anzi Ti sconfiggerò Anzi Allenati con Ubb Ma io ti sconfiggerò Presto o tardi Partenza di Goku con la navicella Oppure Trunks Che piange La morte di Gohan Nel futuro Peccato che nel manga La storia è andata Diversamente Nell'anime Secondo me hanno fatto Proprio bene A mantenere il Pathos della scena Cioè Trunks diventa Super Saiyan Proprio a causa Di questo Motivo Cioè Il motivo è che Gohan è morto Perciò lui diventa Super Saiyan Per la rabbia Della sua inettitudine Della sua incapacità Della morte di Gohan Nel manga invece Lui è già Un Super Saiyan Però Tra le due Questa è molto più Ricca di emozione Mi sento di votarla Goku che viene Stritolato Da Vegeta Così Oppure Goku che dà La sua energia A Freezer Anche questo Un altro Incredibile gesto Buddista Prezza di coscienza Di Vegeta Morto Tutti morti E poi La Kamehameha Di Gohan Questa è la prima Kamehameha Che gli lancia Che lo devasta Completamente E lui aspetta Sta così Sta così Gohan fa così Kamehameha Un basso Troppo forte Mister Satan Ma no Lo odio Va bene Goku piccolo Dai Che so ste pagine Po' lunga Comunque Va bene Ragazzi Allora L'uccisione Di Shenlong Da parte Di Piccolo E la prima Pagina del manga Dai Come si fa Come si fa Guardate 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 la bellezza Di questa pagina È un racconto Che viene Da un altro tempo Perché c'era scritto Ma Junior Perché Significa Piccolo Demone Ma Junior È il nickname Che Piccolo Usa per iscriversi Al torneo Di arti marziali Per evitare Che la gente Scopra Che lui È Piccolo Il figlio di Piccolo La reincarnazione di Piccolo E quindi usa Ma Junior Ed è il motivo per cui In Italia Piccolo si chiama Junior Perché hanno Lasciato Quel nickname Che lui usa Junior E poi lo hanno mantenuto Per Per sempre Praticamente Comunque dicevamo Guardate La prima pagina Di Dragon Ball È un racconto Di altri tempi Ci sono le scimmiette Appese All'albero Che lo salutano Goku Che sta Facendo ruzzolare Questo grande Ceppo di legno Che ha appena Tagliato via Si vede perché ha questa Questa sega enorme Sulla spalla Il riquadro Che sembra veramente Un richiamo antico Ma in generale Tutto Tutte le impostazioni Della pagina Sembra Uscita da un libro Di un altro tempo Con le montagne Questi fiori Le piante In giro Bellissimo Stupendo Presentazione Di Mecha Freezer E Recold Oppure A più di 8000 A cipicchia Eccolo Super Kamiguru E Last pool Più assurdo Di Dragon Ball Non posso morire Perché ho Un cosetto Nel cervello Che nessuno sapeva Nemmeno io Voto Guru Solo per questo Dai Wow Bellissimo No il primo volo Di Goku Con la Kinton Si vola Si vola Si vola Goku che fa così Ora so che posso vincere E Gohan Che spacca La navicella In cui Raditz L'aveva confinato Questo è il momento Immediatamente Prima di quello Che abbiamo già votato Perciò Vai di Goku Ah Bellissimo Peccato Che non l'abbiano Messe insieme Tutte quante Allora Non mi piacciono Tanto le composizioni Con più personaggi Però questa Sono vignette Quindi sono Singoli Momenti E reazioni Principalmente Sono le reazioni Di tutti loro Bellissima Alla fine Della saga Di Majin Bu Però qua c'è Goku E Krillin Che spingono Questa Questa roccia gigantesca Muten gli ha detto Avrete superato L'allenamento Quando sposterete Queste montagne Poi ci riescono Sul serio Ma Muten Aveva detto così Per ridere Fantastico Ah no Vabbè Dai Dai però Allora Goku e Bulma Primo incontro Meraviglioso Tra loro due E poi Goku e Krillin Al torneo Poi c'è questo Amico di Toriyama Non mi ricordo chi era Comunque era Amico di Toriyama Che lui ha disegnato E qui Tenkaichi Butokai È ripreso Da Un viaggio a Bali Che Toriyama Aveva fatto con sua moglie Aveva recuperato Tutta l'estetica Di ciò che aveva visto In questo luogo Meraviglioso Immerso nella vegetazione Grandi Stupendi Stupendi momenti Bellissimi Tutto bellissimo Da vedere E insomma Voto questa Dai Troppo bella Anche qui altre reazioni Momenti degli altri Che dicono Adesso diamo l'energia Goku Ci sono Upa Bora C'è 17 C'è Ottone Suno Anche se Ottone Oddio Non lo so Allora 17 È chiaramente Basato Su un corpo Biologico Immagino Che abbia Il Genki L'energia vitale Ma Ottone È solo Cioè È solo Meccanico Chissà Ma forse anche i robot Hanno Un'energia vitale Non lo so Vabbè Particolare Comunque voto Goku Che sta per dare la testata No dai Ma pure Ma sono troppi momenti Iconici questi E Gohan che scappa Poi questo l'hanno usato Anche nella sigla Di Dragon Ball Z Devo dire che Mi piaceva vedere Gohan in difficoltà Probabilmente mi piaceva Di più vedere I filler di Gohan In Dragon Ball Z Che quello che succedeva Davvero Probabilmente Sì Però lo voto Allora Nonostante io odi Questa morte Proprio inutile Anche questa Cioè il teletrasporto Teletrasporto Gli da un'altra parte E torna subito No Eh no Però Perché Perché Eh perché Ci avrebbe messo Troppo tempo a cercare Certo uno che vola Veloce Alla velocità della luce Giustamente Non riesce a teletrasportarsi In un posto E volare fortissimo No Eh mi dispiace Anzi Deve teletrasportarsi In un posto Dove Percepisce Laura E basta Cioè non si può teletrasportare In un posto dove Ah percepisco Laura E mi sposto un po' più in là No Non lo sa fare questo Dai dai Io queste cose le trovo Odiose Odiose Ma Il disegno è fichissimo È proprio Bello E qua però C'è Vabbè il contrasto Tra Goku e Vegeta Fico Fico Disegnato bene Ma Diciamo che questo momento Di sacrificio Dove Goku è disegnato Stranamente bene E sereno Rispetto a A qualsiasi altro momento Prima e dopo Questi capitoli Fa Fai intendere Che qualcosa non va Secondo me è importante Questo Cambiare anche Lo stile Fai arrivare qualcosa Al pubblico Vegeta che si sacrifica No Questo non mi piace Questo Ci sono altre pagine Dove si sacrifica Sono molto più belle Allora Fermi Super Kamehameha Di Goku Lanciata contro piccolo E Fuochi d'artificio Sopra Il palazzo di Dio Questa è una Di quelle tecniche Che io non dimenticherò mai Stampato a fuoco Nel cervello Sulle riviste Non ufficiali Bootleg Di Dragon Ball C'erano tutti i nomi Delle tecniche Questa è quella Di Majin Bu Lui fa il giro Del palazzo di Dio Vedete quanti esseri umani Sono rimasti sulla terra E spara questo colpo Per ammazzarli tutti E il colpo Si chiama Jinryu Zetsu Metsu Kogeki Solo per pronunciarlo Di fare una sega Allora Gohan Che spacca il cervello Di un Cell Junior Contro Sucite No come era Sarabata Burma Toranx Sucite Wa Kakaroto Vai di Gohan Non è ancora quella La migliore Di Vegeta Che si sacrifica Non è ancora quella Non è ancora quella La prima volta Che Goku Usa la Genkidama Qua si sta ancora allenando Con Kaio E quando spiega La Fusion Io amo questi momenti Deliranti Vai di Fusion Con piccolo Che cerca di fare tutto Oh Il Il Kienzan Di Grin Contro Nappa Fantastico E Goku Che si accorge Di aver combattuto Contro suo nonno Gohan Allora Secondo me La pagina dopo Di quando lui piange Dice Il nonno Il nonno Il nonno È molto più Emozionante Questa pure È bella È un bel momento Un bel reveal Sì Però mi sa che voto Il Kienzan Un saluto Padre figlio Abbraccio E Mr. Satan Che è costretto A fare tutte stronzate Per ringraziarsi Majin Bu Adoro Mr. Satan Nella serie Di Majin Bu Completamente rivalutato Perché è incredibile Ah Eccolo qua Grazie Dragon Ball Però Qua c'è il cazzottone Di Goku a Vegeta Con il Kaioken Questo è incredibile Dai Estrazione Della spada Z O Goku Che spara La pilaf machine Dai Vai di questo Vai di questo Vai Sì Adoro Adoro Questo Questo Poi c'è anche Un'altra pagina In realtà Con il drago E altri momenti Di Goku Perché non le mettono Insieme Perché Sarebbe Bellissimo Allora qua Goku sta andando Sul palazzo Di Dio Stupendo momento Dove deve Agganciare il palazzo Di Karin Con quello di Dio Grazie al bastone Però questa ragazzi Questa è troppo bella Con il passato Raccontato con queste fotografie Dai Troppo bello Bellissimo Mmm Goku che vola Non mi è mai piaciuto Tanto questo disegno Devo dire la verità Non mi è mai piaciuto molto E qui Goku Che arriva incazzato Sul campo di battaglia Contro Vegeta e Nappa Ah Bello Bello Questo è il momento Prima Della penetrazione Con lo scimmione Dietro E poi Freezer Che invece Non è morto Sta per uccidere Krillin Mmm Goku Allora No dai Due momenti Di Vegeta Che adoro E qui Vegeta Ha la Upper hand Su Cell Gli da sto calcio Stupendo Nei testicoli Ti muori Pezzo di merda Fantastico E qua Invece Per la prima volta È buono Con il figlio Lo abbraccia Dice Trunks Prenditi cura di te stesso E gli da la botta Pum E poi da pure il cazzotto A Goden E piccolo Se li porta via Dai ragazzi Wow Il logo Di Caverna Rewind O L'amore di Vegeta Per suo figlio Con Slam Dunkin Sottofondo L'amore Guiderà la mia mano Lama Fuba E poi Qua Quando Vabbè Goku Si è appena Teletrasportato Per uccidere Cell Ma tanto Un sacrificio Totalmente inutile In realtà È un sacrificio Inutile Anche quello di Muten Ma solo che Muten Cioè Lo perdono Perché è un vecchietto Mmm No Vecita Sbroccato Di brutto In questa scena Quel bambino Di merda Ha preso La mia sfera Cazzo Come un matto Guarda La rabbia Che gli sta uscendo Dappertutto No Questo è bellissimo È bellissimo Adesso si vede Proprio la La rabbia Di Vecita Incazzato nero Ma me lo spero Ma me lo spero No Eh no Però Dai Dai Così no Dai Waiu Ma come si fa A scegliere questa Goku e Piccolo Che si alleano Per la prima volta Pagina super dinamica Vento E nuvole Che sono elementi grafici Onomatopeia Che segue il loro movimento Loro disegnati benissimo Super puliti Dall'altra parte Gohan 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 che spara La Kamehameha Con tutta la sua potenza E Goku dietro Che sostiene il figlio Goku è piccolo La sfida tra i Majin Buu Mmm O Goku che arriva su Namek Dai Goku che arriva su Namek È più divertente Morte di Vegeta Ah 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 Allora Amo questo momento Dove loro si separano Tutti quanti Si salutano Eh Krilin Gohan Trunks E Yamcha Vanno via Si salutano Tutti e quattro E però Cell che dà La comità Da Vegeta Voglio è troppo bello Fa troppo ridere Ah 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 Attenzione Anche qua Momento di Goku Che con un calcio Tutum Uccide Tamburo Si chiama Tamburo Lui Uccide Tamburo Qua vabbè C'è Goku Che sta lanciando La Genkidama Bellissimo disegno Veramente incredibile Sì Voto questo dai La Kamehameha Con i piedi Subito Goku e Krilin Per la prima volta Con l'uniforme Oppure Piccolo Che dice Ti ucciderò In cinque secondi Nonostante Piccolo Abbia quattro dita E non cinque Toriyama sotto Qua non si legge Ma qua sotto Toriyama scrive Ho disegnato un dito in più Perché è brutto dire In quattro secondi In cinque secondi Ci sta E allora ho disegnato Un dito in più Anche se Non ce li ha Ah 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 Mmm La Genkidama Potentissima Sì ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Oppure Cell che sta là Dice Ragazzi quando avete finito Fatemmelo sapere Che io Risolvo tutto Massivo Tosell Uh Genkidama che Quando colpisce Fra l'altro Si vede l'effetto Che quando colpisce La Genkidama Fa questo effetto qua Tipo fulmini Quando colpisce davvero Il nemico Bellissima La faccia deformata Di Vegeta Che si allunga Però Allora Quanto significato c'è In questa pagina Quanto significato c'è Trunks che Fum Taglia in due Mecha Freezer Che anticipa Il discorso robotico Che arriverà Proprio in questa saga E fa capire Che Freezer Questo grande nemico Della saga precedente Ora Non è più così pericoloso Perché guarda Questo personaggio Che viene Boh Nal nulla Capace di ammazzarli In un attimo Zacc Il ragazzo misterioso Oh Anche questo L'adoro Allora Qui è La prima trasformazione Di Goku in Super Saiyan Che si incazza Boom Sbrocca Gli vengono i capelli Biondi Però qui Il dottor Ghero Che prende sto tizio Mi mette la mano in gola Lo tira sopra Prima di tutto Spacca tutto Spacca tutto la macchina E poi stringe così tanto Il collo Che ragazzi Gli fa fare Cioè la testa fa Dal collo Così la strappa fuori E questo è Dragon Ball Il manga Fantastico Bellissima la tecnica Con le tre dita di Vegeta Troppo bello Ma Questa pagina Il sacrificio di piccolo Quanto è bello Quanto è intenso Che è il bel disegno Tutti i tratteggi Le linee cinetiche dietro Bellissimo La crescita La maturazione del personaggio Allora Mi dirò Goku che fa E l'energia Il dito super saian E Trunks Questa volta non mi tratterrò Vabbè È figa Come scena È Yajirobei Che taglia in due Uno della famiglia demoniaca E poi Somagna Somagna Fa capire tanto Della potenza Della potenza di Yajirobei Fortissimo Gohan incazzato nero Dopo la morte di piccolo Masenka E qua invece Presentazione di alcuni personaggi All'ultimo torneo Tenkaichi Dove sono tutti Super scemi Bello Preferisco Come sempre Le cose comiche Le preferisco Gohan Sulla Kinto O Presentazione di tutti i personaggi Morti Che adesso si stanno allenando Da Kaio Gohan Dai Gohan sulla Kinto Troppo bello Majin Buu che prende la sua vera forma O Goku che va via Abbraccia il figlio Eh Abbraccia il figlio Per la prima volta Che piange Goten Tutti con la lacrimuccia Lui che va all'altro mondo Bello Mmm Ah questo è un bel momento Kamehameha Teletrasporto Dai figo Super saian 3 Contro Costruzione del torneo di Cell Ma come può mai vincere Vai di super saian 3 Mmm Gohan super saian 2 Contro Muten Che a destra Goku e Krillin Portano il latte Questa è la base La storia E lui si piglia i soldi Cioè Muten si piglia i soldi Fanno i lavoretti E lui In cassa Vabbè Voto Gohan Dai Madosca Freezer tagliato in due Troppo bello Dal suo stesso raggio Mmm Goten che dimostra di Poter diventare super saian Vabbè E qui Goku All'interno del castello Del Red Ribbon Che dribbla tutti i proiettili Li ammazza tutti Troppo forte No Questo Goku è troppo forte Questo Goku contro Majin Bu È troppo bello Mi piace Goku Che arriva Da Da Popo Però Goku contro Majin Bu C'ha quella faccia infame Ok Ci abbiamo messo Un'ora e mezza Solo per selezionarli tutti Allora io vado un po' più spedito Qua però Secondo me Questa scena Poi Sempre gente impalata Comunque È capitata poi a me questa scelta Questa scelta Questa scelta Sì No Per me è l'altra Goku Time No non l'ho manco vista Per l'altra Fra Relax o Gore Gore C'è una Gore incredibile È questo per me Per me questo deve andare Presentazione di Radish Ho la scimità Scimità Io prendo la scimità su tutti No questo l'ho portato avanti Perché mi serviva Ma Ma senza neanche analizzarle Già le ho analizzate tutte Quanto Ci ho fatto un'ora e mezza Solo ad analizzare E se è un bivello Un bivello Ma io ho durato quattro ore La mia Quattro ore Tu sei scemo Ma io ho fatto l'analisi Fatta per bene Anche Ma La impostazione della Tau È certo È certo Ho detto tutto E quando ci ho Un'ora e mezza Ci ho fatto tutto E di più Maestro Di più Di più Di più Di maestro Di diplomato Maestro Comunque Frisa E vabbò Goane La mia scemità Goku Sì 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 Questa mi piace La tristezza Ma Si equilibra un po' Devo dire la verità Questa mi piace Goku Paralonda energetica Super Kamiguru O Elzel Grenade Eh Elzel Grenade È tanta roba Però Vero Eh ci sta Ci sta Vabbè intanto noi vediamo Eh Qua è stata una scelta sofferta Anche prima E vi dirò Preferisco ancora Majin Bu Beh Presentazione di Nappa E Vegeta Però ci sta pure Quella di loro Che stanno seduti Così mangiano la lina Porto avanti Po lunga va Che già ho scartato Shenmue Troppo bello Questo Goku Corre Troppo Corre Ma corre Wah Wah Assurdo Sequenziale È uscito Una da un'altra E poi Vabbè c'è un'altra pagina E fa Ma quello è Goku Quello è Goku Sì sì Goku Bum Ci chiamano Accapato Questo è proprio Toriyama Caricamento della tensione E poi L'esplosione Dell'azione Questo è proprio Scuola Toriyama Che chiaramente L'azione Non si può raccontare Nei manga Eh sono manga Sono disegni Statici Eh Beh Premio Assolutamente L'immagine Ma perché Grande Grande O tutti i personaggi Non è quello E poi c'è un peso No guarda l'equilibrio Che crea Tutto bilanciato bene Guarda Anche Il modo in cui si crea Una cornice Intorno ai capelli di Goku Giustamente Per l'impatto Perché altrimenti Sarebbe nero su nero Poi non risalterebbero La forma La posizione del corpo Poi loro che si intesse Come così Sono lo young e lo young Sono una cosa Solo Nemici Nemici giurati Eh mi dispiace Per Bulma Anche se meriterebbe Eh no però eh Cazzo Prima volta di Goku Sulla nuvola Kinton E prima presentazione Di Gohan Ma hai rotto il Sei uno stronzo Eh voto questo dai Ah più di 8000 Ci picchia Oh Goku Che beve L'acqua del dio maestoso Eh questo è tosta eh Però qua è bello Perché si vede La potenza di Goku E lui graficamente È sempre uguale Solo incazzato Non si vede Goku Qua Goku sta per incazzarsi Sta per succedere i cazzi Vabbè Magin Boo Bellissimo Allora Allora Io adoro Magin Boo Mi piace Qua Mr. Satan Che nella saga di Cell Non lo sopportavo proprio Qua invece È il personaggio Che regge tutta la saga Di Magin Boo Super divertente Lui Comico Comic Relief Ma anche messia della terra Importante Per risolvere tanti problemi È l'unico Che capisce Che con Magin Boo È inutile combattere Ed è meglio agire In un altro modo E ci riesce Cioè lui è l'unico Che riesce In qualche modo A insinuarsi Nella mente Di Magin Boo Lo rende docile Lo cambia Cioè l'umanità Di Satan Cambia Magin Boo Ed è importante Questa cosa qua Eh poi vabbè Però lui mi piace Come è cattivo La presentazione sua Così È troppo iconica Bella Allora Io sapete Odio le morti di Dragon Ball Perché per me Sono tutte sceme Inutili Il sacrificio più inutile Di sempre Goku si sacrifica Cell ritorna nel capitolo dopo Cioè totalmente senza senso Proprio per togliersi Dalle palle Il personaggio Però questo disegno È proprio bello Io lo adoro Goku è disegnato Nel senso Che analisi che ti ho fatto Goku qui A parte che è estremamente Un bodhisattva Ed è completamente Calmo E disegnato In modo completamente diverso Rispetto al capitolo prima In questo Cioè Goku prima È tutto Nervoso C'è questo Sì Tutto schizzato Veloce Qua Goku è Un bodhisattva Pienamente placido Sa cosa deve fare Pazzesco Disegno incredibile Due uccisioni di Vegeta Vince quella più cruenta Questo io l'ho fatto andare quasi Ci sta Ci sta Super Trunks o Gohan sulla Kinto Vabbè A me piacciono queste scene Che sono belle Con la cornice Il personaggio grande Disegnato bene Preferisco Gohan È una questione proprio di sensibilità La prima Mafuba O la presentazione dei guerrieri Z Vincono loro ragazzi Eh Sapete Questa io l'ho fatta andare avanti Perché Jackie Chun contro Goku Che poi è uguale Sì 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 Ma questa è Strategia Strategia che vince Sulla mera forza fisica Incredibile Pazzesco Uguale a quello di Goku È piccolo Guardate Ancora di più accentuato Proprio Il simbolo del Tao Con uno vestito di nero E l'altro vestito di bianco Noi sappiamo che è un oro È un oro rossiccio Però è chiaramente bianco Nel manga Quindi il bianco e il nero Che si incontrano Formano il Tao Però lo sapete C'è il debole PC18 Ma boh Eh Va Allora Io qua ho premiato questa pagina Perché mostra l'interno Della stanza dello spirito e del tempo Come mai prima d'ora Perché si vede anche Il sotto della ghiera Di questa cupola E si vedono le lancette Guarda È interessantissimo Vedere come Toriyama l'ha pensato questo posto E qua Vabbè Si vede l'interno Della stranale di Babi Ma sinceramente Questa parte di Vegera Che diventa Magin Io Non l'ho mai sopportato Quindi andiamo avanti Questo dai Allora Qua Guardate l'equilibrio E il peso di questa pagina Questo Quadrante È completamente in nero E c'è Vegeta in alto Che sta sparando il suo Calic Gun E invece Quest'altro quadrante Che divide perfettamente la pagina È molto più bianco E crea l'equilibrio È la Kamehameha di Goku Allora quanto peso che c'è Bellissimo Equilibrio perfetto È Disegno Super morbido È lo stesso periodo Naturalmente Distanza di qualche settimana Non c'è una singola tavola Dutta Della Saiyan Saga No È tutto bello È tutto bello È una battaglia con Vegera Non c'è una tavola Però perdonami Ma cosa si può dire del Kaioken Cioè questo è il primo Kaioken Che esplode Pagina a colori Goku tutto rosso Queste pennellate rosse Sui capelli Sul vestito Dai È pazzesco È pazzesco Tecnicamente Quella è difficilissima da fare È È una sfida ragazzi Perché qua c'è C'è molto Allora Io non premio tanto Le semi splash page Con le vignette Questa la vorrei premiare Però Vai di Kamehameha Ecco Per lo stesso motivo Io le semi splash page Non le premio tanto Però questa è veramente una È bella Questa è bella E qua Sono due vignette Anche qui Semi splash page Però con Una razio diversa Rispetto a quest'altra Qui per il lungo Qua per il largo E che si fa Tosta Disegno bellissimo di questo Però A livello di Narrativa Di Importanza Per il racconto Che ti sta portando avanti Dragon Ball Il sacrificio di piccolo È importantissimo Non lo posso lasciare indietro La guida di Toriyama a Bali È Il viaggio che ha fatto Con la moglie Tutto Questa doppia splash page Incredibile La loro Prima Partecipazione Al Tenkaichi Dai Noi Siamo noi Siamo là Siamo là Eccoci Eccoci qua Siamo noi Eccoci Eh questo è tosto Però Coco in posa O Teleport Kamehameha Vabbè Anche qui Altre grandi cazzate Mi rigenero Le cose che si risolvono Nulla di fatto Non mi piacciono tanto Cioè secondo me Dragon Ball Era molto più concreto Prima Poi dopo Si perdono tante cose Azzarro Vegetazzarro Oppure Coco Gyardrat Eh ragazzi Non hai speso mica Tanto per una stata di Coco Infatti per questo È andato avanti E per questo Continuerà a andare Allora Angelo Masullo Potenziato da me Ecco qua Da io che sono Super Kamiguru Oppure Scontro Goku Piccolo Bellissimo Questa presentazione Classica Dei personaggi Lui che si toglie il mantello Non il turbante Perché se no Si vedrebbero le antenne Com'è Com'è bello il dinamismo Con cui Dei vestiti Il modo Sì sì Il modo È proprio Fisico Senti il peso del mantello Vedi il drappo Che si muove Lui che lo sposta Così Lo lancia E poi chiaramente si creano tutte le pieghe del vestito Queste sono le cose incredibili Sempre nella sua stilizzazione E qui è Un bel momento Un bel momento magico Però secondo me Poteva Spremersi un po' di più Comunque divertente Il fatto che Tira fuori l'energia Il personaggio si allunga Allungato proprio Sì 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 Vabbè Ma avanti Goku piccolo Che comunque sta andando avanti tantissimo E mi dispiace Il cazzo Ton Il cazzo Ton Anche qua Allora Sono due cose Che non risolvono niente Qua Gohan È quella Kamehamehaga che fa Kamehamehameh Aaaaaaah Mi scoccio di disegnare Tutta la cosa Aaaaaaah Senta senta Però Bel disegno Super Sentry Oh dai Presentazione di Super Sentry Che però non ha Un disegno incredibile No è normale Normale per quello La faccia di Goku È strana Il busto Non voglio essere fatto meglio È fatto meglio Nel frame dell'anime È fatto meglio nell'anime A me l'anime non mi piace Anzi È fatto proprio È fatto meglio in Il diabolico guerriero degli inferi L'ha fatto meglio Per caso è l'irrepreensibile Guerriero degli inferi Vabbè Comunque Super Sentry Allora Motivazioni già spiegate Purezza di Goku Contro Questa Purezza di Trunks Purezza di Trunks Allora Questa pagina di Trunks Di nuovo È una pagina che fa riflettere Fra È una pagina che ti fa domandare Perché dici Ma che cazzo è St'altra navicella Ma da dove esce? È Trunks che sta come te E tu stai come lui Siamo tutti e due Nell'ignoto Trunks diventa Lettore di Dragon Ball Le mani Sono le nostre mani Che tengo Sì 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 Siamo noi Siamo noi che leggiamo Dragon Ball E lui diventa noi È incredibile Allora Così Sai che mi sono ritrovato a preferire La versione della Full Color Dove anche Vegeta fa ok Io questa l'ho scartato Perché questa tavola non esiste più Fra Ah sì non c'è più adesso Questa tavola non esiste Non c'è Ma nella Full Color Nella Kanzenban Non c'è più È stata ridisegnata Ma in realtà Anche nelle altre edizioni dopo Mezza tavola Ha finito Sì 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 Invece nella versione nuova Black Bart ha detto c'è Vabbè sulla Evergreen è ribaltata Ma chiaro La vedo Con questa grafica qua Sono ribaltate Con la Gotenks qua ribaltata Si vede pure È un po' costorto Sì 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 Ma sì 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 È chiaro Eh no è così nella Evergreen Grazie ragazzi Vabbè Gotenks dai Eh no Allora preferisco La ricchezza Dei dettagli Che ci sono Sulla Sulla torre di Karin Sono bellissimi Cioè Allora qua Toriyama ha palesemente rosicato Perché ha visto nell'anime Oh Bardock Top personaggio Mo' lo metto nel manga E il rosico di Toriyama Sta qua È testimonianza importante Del suo essere Un grande artista Perché i grandi artisti rubano Però La scalata di Goku Qua è bellissima E quindi va avanti Questa scena No Eh mannaggia Ma no no Non è giusto Ja ma come si fa Allora Il primo desiderio Di Dragon Ball È il primo Desiderio Ed è tutto Dragon Ball O Long Salva il mondo Con una porcellata Essendo lui Un porcello Vuole le mutandine Da donna E salva il mondo È un grande È la È la doppiezza Di Dragon Ball Un evento Salvifico Che è stupido E poi abbiamo La potenza Goku che diventa Scimmione La prima volta Spacca tutto il castello Di pila Guarda che bello Doppia splash page Grande disegno Non mi si può mettere questo Sei Sei cattivo Il primo desiderio Il primo desiderio Si può sgarrà Krilin che sta quasi Per uccidere Vegeta Che sta ormai Con gli occhi De fuori E un bambino Un bambino Capace di sconfiggere Un esercito La purezza Del bambino Che combatte Contro un esercito Di uomini malvagi Bellissimo Non c'è Paragono Non c'è Allora Scena super iconica Di Goku Che rende paraplegico Nappa E lo sorregge Con un braccio E dall'altra Altra scena iconica Di Freezer Che dice Ah Nail Sei molto forte 42.000 di livello Di combattimento Io 530.000 Me coglioni 10 volte da Più di 10 volte da La pre Gli strutta proprio Eh tosta Freezer mi piace come cattivo Forse il miglior cattivo di Dragon Ball In assoluto Perché lui non ostenta Cioè non è che dice Io 530.000 Ma non è che la usa tutta La 530.000 Eh penso Dice Vabbè Non mi sono mai allenato Non mi sono mai allenato Ma sento mai allenarsi Potrebbe aggiungere E non mi sono mai allenato E se si allenava Che succedeva Dragon Ball Super Eh Però è troppo iconica Questa c'è Ho messo già il Goku Time Però devo dire la verità Quindi va bene Andiamo di Freezer Dai Allora No 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 Da una parte la presentazione Di Vegeta E Nappa Vegeta È seduto sul cadavere Di un alieno Che è appena ucciso E se lo sta mangiando E dall'altra La suprema arte di Toriyama Goku colpisce Yamcha Che rimbalza sulla vignetta Che si rompe Questa è proprio Infrangimento Della quarta parete totale Siamo da un'altra parte Del mondo del fumetto Siamo proprio Oltre Come faccio Che da una parte C'è la figaggine Dall'altra Poi c'è la storia Del fumetto Mannaggia Mi fotte sempre la storia Arriva prima Il meme vince Yamcha morto a terra Prima Kamehameha di Goku Contro Ostentazione Di plutocratica Sicumera Di Majin Bu Che spara Una Una serie di fuochi D'artificio Una batteria Da 400 miliardi Di colpi Capodanno a Napoli Capodanno a Napoli Guarda Lava è fortissimo Sai come si chiama Quella tecnica A memoria La sapigo io A memoria Perché sta su tutte Quelle cazzo Di riviste Di merda Con tutte le tecniche E le riviste Bootleg assurde Jinryu Zetsumezu Koke Il colpo Per lo sterminio Del genocidio Totale Ma qua Stampato Un fissato Una tecnica Che io so A memoria Ragazzi Non può perdere Contro una prima Kamehameha di merda Non può Allora Mi dispiace Yajirobei Ho portato avanti Il più possibile Si fa quel che si può Oh ma noi qua Saliamo un po' Sì Sono il campione Prima apparizione Di Muten Contro Kamehameha Con i piedi Sappiamo già Chi vince Dai Morte di Vegeta Contro Gomitata di Goku Ma come peso Narrativo Chiaramente Vince La morte di Vegeta Stubidità O presentazione Di Trunks Voto la stupidità Volleyball Eh tosta Allora Goku Che ho la vittoria Oppure Vegeta Che per la prima volta Si comporta come Un padre Big e figlio Mazze Panella Fanno i figli Bella Panella Senza maz Fanno i figli Cazzo No A cape Cazzo Non cazzo Ah Dio Presentazione di Dio Oppure Come ben sapete Io c'ho il debole Per C18 Primo bacio C18 Acrilli Eh fondamentale Vince No Presentazione dei fratelli Sono anche speculari Come peso Guarda qua Presentazione grande Presentazione grande Vignettono Vignettono Due vignette Tre vignette Madonna No È assurdo Poi Toriama Fa sempre le stesse composizioni A forza di leggerlo Poi ti accorgi Fa sempre le stesse cose Quale è più bello Dove Goku Goku Con il Goku Poi tu lo vedi Sai che è Goku Però non sei convinto Non è bravo Hai bisogno di una conferma Perché hai visto Esatto Hai bisogno di qualcosa Darbola 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 Vai a spodare in faccia al vicile Ci sta per mettere la multa Darbola Sì 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 Ecco vedi Questa è la Kansenban È la Kansenban Che si rimangia Tutto il finale Di Darbola Lascia stare il mio papino Allora devo dire che Smoccolando Gohan smoccolando Sì preferisco Preferisco lo smoccolo Veggete incazzato Gohan spaventato Gohan spaventato No Allora Questa È una bellissima tavola Ma questa con le poloide Allora Questa Se fosse stata tutte e due le pagine Che c'è anche l'altra parte Con gli altri personaggi Con il drago E le altre tre fotografie Ti avrei detto Sì Siccome è stata sola Io la voglio premiare Perché Quella pagina di Remma È stranissima Perché tu vai nell'aldilà E questo dovrebbe gestire L'altro mondo No È un salaryman Lui è il capo ufficio Col telefono Che gli cagano il cazzo Deve fare le pratiche E gli onni sono tutti Degli impiegati Così Giacca e cravatta Cioè Questo è Dragon Ball Questo Cioè Quella a sinistra Se fosse completa Non ci avrei pensato due volte Ci sta Aiuto Aiuto Gli uomini Sanno cosa scelta Mi sento Convalidato Da Angelo Sei un uomo Sono un uomo Grazie Kienzan Per il quale Nappa Stava pure sottovalutando E se no Glielo diceva Vegeta Perdeva la testa Che bello Come Maria Antonietta Faceva Eh sì sì Oppure la fusione Che io ho portato avanti Per pure stupidaggine Di piccolo Che fa le mosse così Guarda che nella stupidaggine Questa tavola è incredibile Perché Funziona Funziona Fa ridere un sacco Certo Perché c'è Piccolo che si presta a questa cosa Nonostante non volesse Esatto E poi guarda Precisamente Tutti i movimenti di Goku Per riprodurli E poi alla fine fa Mamma Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì sì E loro con generalissimo Sì a guardare Stavano guardando una stupidata E invece le stupidaggine Ma io le stupidaggine le sto mandando molto avanti come puoi vedere Eh devo dirti la verità Però qua Guarda quanti elementi grafici L'invincibile coppia Ti ricordo Quell'episodio Ossia L'invincibile Film L'invincibile coppia Perdono subito Perdono in un attimo Allora sta Allora sta La cassetta Ecco la numero due L'invincibile coppia Osservare Prego Con Goku Però sopra Con Goku E fa la Genkitama Ma siamo molto più avanti Diciamo Tutto è così La cassetta Un bel po' più avanti Allora per me questa deve vincere Perché guarda che grafica Guarda Guarda il vento Le nuvole Come separano gli elementi Guarda il peso naturalmente Di Goku lì Bello grande Prominente Le nuvole Guarda le nuvole come si congiungono Con il vento Sono incredibili Mamma mia Toyotaro per fare questo Si deve spremere il buco del culo E non gli esce niente Dai dai ragazzi È incredibile questo No vabbè Sto Gohan Allora Sto Gohan È un bellissimo disegno Bellissimo Però Cioè Guardate sta pagina di Goku Buttista Che si pente Di ciò che ha fatto Che non voleva ucciderlo Freezer Pagina muta tra l'altro Sì pagina completamente muta E tu capisci tutto del personaggio Goku non parla E tu senti ogni parola Ogni rammarico Ogni rimpianto Dai per favore Su Su Dai Comitata per gomitata Andiamo avanti con Vegeta Che soffre Allora La più grande e potente Kamehameha Allora vi dico Fosse stata Quella di Muten Che fa tutte le mosse L'avrei portata più avanti Ma pure Che si potenza Lui bombata Splash Veg Sì L'avrei portato avanti Allora questa è la morte di Vegeta Totale La vera morte di Vegeta La vera morte di Vegeta Gambarei Kakarotto You are number one Oh my gawà Number one Sì 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 Questa è la morte di Vegeta Che ammette Che Kakarot È migliore di lui Eccolo qua La morte di Vegeta Allora Qui è un altro elemento comico È bello perché Stai mandato avanti Le stesse tavole mie Averse varianne Allora Allora Io questa l'ho mandata avanti Perché è metanarrativa Perché piccolo fa Ti sconfiggerò in cinque secondi Ma lì a quattro A quattro Di Tettoriama Sottoscrive Io ho disegnato un dito in più Perché sennò era brutto Dire Muori in quattro secondi No Mi ha scritto Ops Ho fatto un dito in più Sì sì Ho sbagliato Questa è bellissima Di Goku e Cici Che partono Per andare a sposarsi Andare a chiamare Vai Ho vinto Si va a chiamare Vabbè Ha fatto tutto Adesso Luna di miele La pagina dopo Goku col figlio Ha dato Ha dato I personaggi Dragon Ball Appena chiamano Con un figlio Obbligatorio Anzi Non chiamano Se non fanno figli Vai di piccolo Vai Dai Vabbè Questa è bellissima Però naturalmente Questa è la prima pagina Ragazzi E vai con i trentaduesimi Si fa più tosta Dai Vado veloce Piedi Macchina del tempo Azz Sì Mano No Mano 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 Questa 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 Non il bacio Questa Perché questa è la conferma Quella è la conferma Questa è la conferma Che dice Ci vediamo Fra come l'hai detto Bello Ok E Goku time Va fuori No No Vabbè Mi dispiace Mi dispiace per il meme Di Yamcha Presentazione Vai No 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 Post Vaffanculo Vegeta Esattamente così No Mi dispiace perché l'avevo portato avanti Lui Ghiattone Però sto portando avanti un sacco di cose gore Effettivamente Vabbè Vediamo dove si arriva Che mi piacciono Eh mi dispiace Va proprio fuori Gotenks Perché questa mi piace troppo Trunks mi piace molto più di Gotenks Vabbè Mi dispiace pure per Gohan Tutte le cose comiche purtroppo Tra dramma e comico Poche cose funzionano proprio bene Vabbè Ma il dramma Per il momento No Che peccato Eh si sono bellissime Il cazzottone No il cazzottone Fra io l'altra volta mi sono salvato tutti Guarda qua Tutti i cazzotti che da Goku a Vegeta Me li sono salvati tutti Perché sì Perché mi piacevano Mi sono messo una sera Me li sono cercati tutti quanti Cazzotti Guarda qua Tutti vanno il manga L'anime Sì sì Tutti 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 Bastardi Questo è il momento di fare fuori questa pagina Così porto avanti un po' di Gotenks Dai Ah no Gohan Lo preferisco Mi piace proprio di più No Mi dispiace Super Bu attack Fini l'action Ciao Bye bye Minna Bye bye Minna Io faccio come No No Una bellissima morte Guarda che Guarda che bella St'immagine Guarda Guarda come taglia Guarda l'onomatopea Come fa spazio ai personaggi E anzi L'onomatopea Viene tagliata Dal braccio di Vegeta Che la sposta e la divide in due Divide in due L'onomatopea intera E non solo la testa e il corpo È incredibile sta pagina Però di là Io c'ho C'ho il ritorno di Toriyama Che disegna E disegna Un implicito Che diventa esplicito Però quanto è bello Che Goku rivede se stesso in hub Per me è grandioso Deve andare un altro po' avanti Per peso narrativo Sacrificio Di piccolo Va avanti Bah sì Vegeta padre Lo porta avanti Lo porta avanti Quello è un momento abbastanza inutile No no Ci sta Ci sta Fa vedere un po' di umanità Kamehameha Vince Assolutamente Morte di Vegeta Morte di Vegeta Darbo Darbole e Babidi Dopo Kamehameha Quello da fuori Lascia stare il mio papà No Lascia stare il mio papino Lascia stare il mio padre Sì 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 È troppo bello No Il primo desiderio Con la prima apparizione di Volunga Ma lo fa apposta Questo Infame di un sito Maledetto È cattivo proprio Angela ha detto Io vorrei Allora Oggettivamente No ma questa È questa Oggettivamente Guarda il braccio di Volunga Ah no perché io guardavo qua Capito E guardavo nella camera E dicevo questa Guarda com'è storto il braccio di Volunga Vabbè Qua le cose storte che abbiamo visto Sono solo quando si ribaltano le pagine Ho capito Ma Toriyama ne faceva molti di più eh Ma un bot ne faceva di più di disegni storti Comunque no Vabbè questo l'avrei votato per potenza narrativa No ma Jimboo mi piace troppo Mi ci piace Deve andare avanti Sì piccolo perché fa ridere Fa ridere Ah No Andiamo avanti con la fusion No ma che dici Fra ma che cosa fai Che quella è stata la tavola della mia finale La tavola della tua finale No Ce ne sono molte altre qua Eh no Io in ballo Guarda quante ce ne ho ancora E c'ho anche questa La prima E c'ho anche queste due Cosa vince? Cosa vince? La meta narrativa? O la forza del segno? Della posazione? Guarda guarda No dai dai Vince questo Ma com'è possibile? Tutte infame Tristezza di cuoco Grande sapienza del disegno E' bella quella pagina E' bellissimo Va Io non commento Capocciata di Goku Allora capocciata di Goku Ho un bambino Che fronteggia un intero esercito E' tosta questa ragazzi E' proprio difficile Non commenti Ma come passa? Perché tu hai visto la tua preferita No no ma se ne stai Schippando alcune Ma per forza le devo schippare Deve andare il sentimento Come Come kondo E quindi perciò Non ti voglio influenzare Dai Vabbè Siamo già visti prima Eccoci qua Sedicesimi Vignetta rotta Vai Non posso Perché Questa Perché Per il meme Però Va avanti Trunks Che mi piace molto No No Va questa sequenza di Trunks E' incredibile Di lui che trova Gohan Morto per terra Piange Spacca tutto Dai è incredibile Vuoi una motivazione Vuoi una motivazione in più Per non sceglierla E' meglio nell'anima Ma infatti Già l'ho detto Nell'ora e mezza precedente Assolutamente Dai Fra è facile Pieno Vabbè Chiaro Però dai No il primo desiderio di Dragon Ball Non si può scammare Fra Il primo desiderio di Dragon Ball Non si può scammare Le mutandine donne Non si può scampare Però questo pure fa ridere Perché fa Eh vedi Quanto fa solo cinque In una saga super seria Comunque ci butta dentro Ma infatti ci sono Allora io ne ho cacciata fuori una Di piccolo Quando ringiovanisce Che c'ha dietro Tutti i pallini della felicità A me secondo Ci sono tutti i pallini intorno Quando un personaggio è gioioso L'ho tolto Perché ha detto Vabbè Non c'entra niente Un piccolo Lui gioioso Con questo effetto dietro Capite che è gioioso Perché è ringiovanito Però Dragon Ball è Dragon Ball C18 la vita Eh Mi dispiace Vegeta Mi dispiace Beh Primo Super Sai E comunque tanta roba No 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 Non è giusto Non è giusto Ma sarà bella il momento Ma è una tavola Guarda Recupera tutte le cose Guarda i segni grafici del vento Guarda Sì sì Di una cosa che poi diventerà inutile Perché Non lo recupereranno mai Ma il manga finisce là Stiamo ancora aspettando Vabbè ma il manga finisce là Che vuol dire Perché è a loro Che recupero di Vegeta Vabbè Questa insomma È la supremazia di Goku Che umilia Vegeta Per la prima volta E poi Il cazzottone Il cazzottone Ecco qua Il Tao Ho la presenta No dai Questa è super iconica Giuseppe Carrillo Con il figlio in braccio Troppo bello Sì Angelo incazzato Prima faccia Prima faccia Angelo Morendo dentro Beh Due momenti comici di piccolo Vai No perché Dove si ridicolizza di più Secondo me è qua Quando fai il volleyball No 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 Qua è proprio È proprio Un bodysat Ma è troppo bello Qua devi valutare Il disegno No ma il disegno qua È assolutamente migliore Nella pagina sinistra C'è una ricchezza Il tratteggio Di tutti gli elementi Ogni cosa è diversa Ci sono La prospettiva Della colonna Prospettiva Guarda Ma la verticalità Di questa pagina Ma quanto è assai Più bella Ma questo disegno Mi piace tantissimo Uno dei migliori di Goku In assoluto No questo dai No Stai facendo come Fabio Ieri sera Stai facendo Ma nanzo Una femmina Come ti permetti Guarda qua Guarda Guarda il destino Dove mi ha portato Guarda il destino Dove mi ha portato No per me Questa è una pagina Immortale Cosme Claudio Dottale Piedi O la prima pagina Del manga Guarda che ricchezza qua Ma guarda Sembra È una cartolina Dalla Cina Fra questa Guarda qua Le rose sotto Dai 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 Le rose Lo ho votato solo per le rose Sì sì No ma Jin Boo contro Eh Dai contro Goku Così No non è giusto Troppo bello Lo puoi rifare Così lo voto Ora ti mangio Ma chi sperò È un po' Winnie Boo Come disse Winnie Boo Winnie Boo No Porca tro Come disse Peppe Fedici Ai piedi Ti mangio Ti mangio Allora Qui è Bruce Lee In una versione Di Toriyama E qua C'è questa scena Super iconica Di lui che arriva Col figlio Sono gli Ottavi Eh Non sono gli Ottavi Sì siamo già gli Ottavi Eh no Ma io questa L'adoro Abbiamo già fatto Tutta l'anamnesi Di questa pagina Che è soltanto Fatta perché Lui e il suo assistente Non volevano riempire Di nero i capelli di Goku Ma com'è bello Lui che arriva così Il mare dietro Goku E nel frattempo Sta succedendo il finimondo Che loro non lo sanno Loro si stanno vivendo Sta cosa tranquilla Sta arrivando lui Te non sei niente Non sai chi è Questo guerrero dallo spazio Fortissimo Sta spaccando duro Il Super Saiyan E il Super Saiyan Fra il primo È iconico È la storia È una botta di culo È una botta di culo Per la storia No guarda Guarda in fan Guarda in fan Guarda in fan Ma prima o poi Succede Ma io ho avuto questo Che Goku è piccolo E Goku è piccolo Si sbaglia Torre Più importante Umiliare Vegeta O piccolo Vegeta Vegeta Più importante Umiliare Vegeta Siamo ai quarti Siamo ai quarti ragazzi È tosta È tosta È complicato Molto complicato Qui dobbiamo stare attenti Si fa la differenza Tra gli uomini e i bambini Scalare Forza delle braccia Delle gambe Resistenza Guarda qua Passa attraverso una nuvola Fra Un bambino che sale Passa attraverso una nuvola Sì Fino ad oggi Questa è poco consistente E È di là C'è il Super Saiyan Mi rendo conto Che a me piace Di più Dragon Ball Quando è bambino È la saga di Freezer A me mi sta proprio sulle palle Vai vai Fai il uomo Fai il uomo Tutta Tutta messa sulle palle La saga No 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 Ti prego No Perché No Io non posso abbandonare l'amore No Ti prego Ci diciamo Allora In difesa della pagina sinistra Oltre alla rottura Della quarta parete E della Nienta C'è anche Bulma Ah è vero C'è anche Bulma Che sta tutto scucciato E di lì a poco Si sarebbe creata Una relazione Uno scambio Deci guardi Con Yam La più grande rovina Di Yamcha No questa vince Non c'è niente La fama No No Eh però L'amicizia Che non c'è Non c'è proprio l'amicizia Forse dopo nasce l'amicizia Gogo è piccolo Io penso fino alla saga Mai Penso fino alla saga Di Cell Se è piccolo Se è piccolo Se potesse Lo ucciderebbe Ma ancora oggi Se è piccolo Come ancora oggi Non potrebbe fare Un struppiassi ammazzata Gogo Struppiare di ammazzata Un quadri Merda Violenza Prossima saga Se va avanti Orange Orange piccolo Fai mazzo Tanto a go Che coppia scegli Tanto qua è la stessa coppia Fra Cioè io non vedo differenze Vabbè Qua però insomma Sono loro che si sono alleati Per andare a sconvincere Un nemico comune Qui invece È lui che umilia Quello che non sarà mai Suo fratello Perché non si è frato a me Dal nulla Perché non muovo bene Perché non muovo bene Bastardo Un bel bacro Ma sempre onorato Aspetta aspetta Sono mobuta Guarda qua Che ti faccio vedere Guarda che mi sono salvato Ieri Mi sono salvato Tutte le immagini Di questo cazzotto Tutte Tutte Ci stai ancora pensando Eh lo so Ma mi dispiace Eh non mi dispiacere Eh no Perché questa graficamente È incredibile però Cioè questa A livello sentimentale A livello di emozioni Anche di peso Nella storia È wow Ma questa a livello grafico Fra è un cavolavoro Ma guarda il dinamismo Delle nuvole Il vento Cioè Hai fatto fuori tavole Molto più belle Ma sei zitto Per te Ecco qua Hai visto Ecco qua Hai visto Allora qua Chiaramente deve vincere La metanarrativa Ecco tutto il bene Però vince la metanarrativa E qua No fra Mo finisce che facciamo una sfida Dragon Ball Dragon Ball Z Per me vince Dragon Ball Z non può vincere Perché lì arriveremo Beh cartolina Cinese E quindi facciamo Perché tanto per me Z non vince A prescindere Vabbè E quindi sarà Cartolina Contro metanarrativa E comunque pure che sarà È proprio bella Dai guarda Lui ho la sega sulla spalla Il pesciolino Che esce dall'acqua Che cammina Poi qua Che c'è sta Un tritone Che esce fuori Le scimiette Che lo salutano Wow è troppo bello Mi sto facendo fare face La storia La storia Mi fa face Perché è troppo bello È pure a colore Qualità Io rimango Rimango sul mio Faccio per te Ma sì Boom Scusa puoi Riempire Eh mi tocca festeggiare Tocca festeggiare Vabbè sei contento Almeno non ha vinto Una cosa che non ti piaceva E si festeggia Ho sacrificato l'amore Per far vincere Vabbè è l'origine ragazzi Proprio la base Come si faceva a dire No dai Dai era impossibile Come facevo Dai Per me impossibile Meshupippi si ha detto Che sono un buffone L'incoerenza fatta persona Sì 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 Ma domani lui Si sveglia E cade faccia a terra Non ti preoccupare No vabbè ma lui parla No nel senso Non sa proprio tu No cosa mi piace Cosa vorrei vedere Pensa che tu Sì 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 Ma allora Questa è una cosa Che tu ti sei costruito Un'immagine Che non è quella che sei Io addosso a me Ho tatuato Goku bambino Ragazzi Io non ho Goku Grande Io ho Goku bambino Addosso Tatuato per sempre Ma scusami Ma questo non è il tatuaggio Per festeggiare Dragon Ball Diamond L'ho fatto ieri Ho fatto ieri Settimana fa Quando è uscito il trailer Un'immagine